Il secondo scontro Allora, sono due e sono andati giù, uno per squadra So it's 4 against 4 Yeah, no, yes, it's 4 against 4 at the moment Oh, losing the weapon Se non ne approfitta adesso il tedesco non ne approfitta più Eh no, perché l'altro non può prendere un'arma Wow, 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 wow Il tedesco sta andando, vediamo se arriva un compagno in ausilio Non è ancora giù il ginocchio The knee is still high Aia, uno sbilanciamento I polacchi stanno avendola meglio It's down So it's a stop No, it's fighting, it's fighting It's fighting Ok, stop fighting, it's 2-0 for the Polish M Grazie.